Benvenuti in questo secondo episodio delle stelle verdi di Super Mario Galaxy 2, anzi Super Luigi Galaxy almeno, stelle verdi, Luigi e verde, comunque nello scorso episodio abbiamo preso, se riesco, abbiamo preso tutte le stelle verdi del mondo 1 e oggi prenderemo tutte le stelle verdi del mondo 2 e let's go per la prima stella verde della galassia, se hai incasso sta proprio laggiù, la vedete? Eccola qui, questa è un po' difficilotta, mi sa che questa è la più difficilotta di questa galassia, bisogna imbalzare proprio al blocco, salire qui sopra senza attivare il blocco, che l'abbiamo fatta, e fare così, prima stella verde presa, la seconda stella verde della galassia d'incastro è qui sopra, 1, 2 e presa, la terza stella verde è lì sotto, sei vista, almeno credo, per la terza e ultima stella di questa galassia si trova proprio qui sotto, dobbiamo aspettare per questa derivata, la lasci cadere questo e fey, comunque si trova lì, basta che saltate la prendete, la prima stella verde della galassia rapide sospese, ed è la più difficile, si trova proprio in cima a questa salita, quindi è parecchio complicato, ed eccoci qui, fermati, 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 ecco qui, la prima stella verde, c'è anche un pinguino, la capacità deve prendere la prima stella verde, signori, penso la seconda, penso, non so, si è la seconda stella verde di questa galassia, qui, avete visto che è lì, ci vediamo la terza, signori ho fatto pure un prendere quella stella verde, ma comunque, poi prenderemo la terza stella verde, mi prendeva il puntatore, non mi prende il puntatore, scusate, ok, così va meglio, adesso prenderemo, ecco come non prendere la stella verde, almeno, avete visto come si prende, signori, la prima stella verde della galassia bocce di cocce, almeno penso che sia così il nome, si trova proprio qui sopra, parecchio, un po' difficilotta, invece la stella verde 2, in pratica, è più vicina del solito, l'unico problema è fare il salto a parete, basta che urto l'altra parete, e ce l'abbiamo fatta, in pratica l'altra stella verde si trova dietro a questa rampa, comunque, 3, 2, 1, presa, la seconda stella verde di questa galassia bocce di rocce, bocce di rocce si trova proprio dietro questa rampa, eccola qui, facilissima, comunque si trova lì, bastano solo che fate un salto perfetto, signori, la terza stella verde si trova proprio vicino, no, boom, e vai, signori, la prima stella verde della galassia a volo della giungla è proprio qui, presa, la seconda stella verde di questa galassia si trova proprio alla fine, prima del cerchio solare, eccola qui, vabbè l'avete vista, basta solo andare un po' più avanti, signori, prima stella verde della galassia baia stellare, si trova nella prima stella è presa, signori, questa stella verde è parecchio complicata, parecchio, almeno avete visto dov'è, allora, la stella verde si trova proprio laggiù, tentato lì c'è lo suavellato, ecco, c'è il filmato, è presa, allora, la prima stella verde della galassia galassia, eder alberale, si trova proprio qui sopra abbastanza complicata, prendo il checkpoint se per caso muoio, vieni, devo rimbalzare, niente, in pratica bisogna volare, ve l'ho fatta vedere, signori, dopo tanto tempo non mi ricordavo dove stava, la seconda stella verde si trova proprio qui, boom, ultima galassia di oggi, quindi ultime due stelle, signori, la prima stella verde della galassia, la regno di lava di Bowser che non è una galassia, si trova proprio qui dietro, primo colpo, wow, nella mia run, la mia primissima volta che ho fatto questa stella, sono morto due centomila volte, signori, ultima stella verde, ultima stella verde di oggi, signori, che si trova proprio qui sotto, esattamente qui, e... ci siamo, signori, veramente, io mi succedo, pulire in questo modo, cioè, vabbè, ripetiamo, seconda stella verde, presa, signori, mondo 2 completato, mancano ancora, set, no, cinque episodi per la fine delle stelle verde, poi ultimi due episodi e poi, fine della serie, signori, 156, non pensavo di arrivare fin qui, pensavo che quando ero vecchio, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, oggi finalmente abbiamo venito alla serie di Super Mario Galaxy, quando sono vecchio, comunque, mondo 2 completato, prossimo mondo, mondo 3, poi mondo 4, mondo 5 e mondo 6, e alla fine mondo 7, ah sì, lo vedete questo qui, come sta significando, hey amico, prendi tutte le, tutte le stelle verdi e sbloccherai qualcosa, beh, quella lì è una galassia segreta che si sblocca prendendo tutte le stelle verdi e la cometa, mamma mia, comunque, andiamo a vedere il mondo 3, eccolo qui, il mondo 3, il mondo 3, non so che dire, vai all'astronavo, no perché c'è una lettera, volevo leggerla con voi, tele, 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 tele. Ma c'è il cartellino? Aspettate un po'. Proviamo un po' a ritornare al mondo 2? No, perché c'è il segnale della lettera, che è arrivata una lettera. Non capisco perché. Comunque che figo che fa... Niente. Comunque signori, nel prossimo episodio faremo il mondo 3. Ciao a tutti.